Buon appetito ragazzi, buon prossimo giorno di soli e soli e sono qui a presentarci un nuovo video che ragazzi è un nuovo pack opening e sono in compagnia di T-Punch ragazzi e oggi, adesso se ne è già andato, lasciamolo già andare, è uscito un nuovo team of the week e guardate un po' quanti magi si ha. Tiago Silva, T-Punch, Umeres, Roden, Benteke, il magico gelataio Schurle e Tevez, ahimè che ha segnato contro il Milan, quindi è una cosa abbastanza poco tattica, comunque è utile anche di partire, dovevo fare una cosa ma mi sono scordato completamente che cosa io dovessi fare. Però no ragazzi, se vedete che non sto usando i crediti è perché ho preso questa volta i FIFA Points e ragazzi non ho fatto mai, io li ho presi perché dovevo usare questo pack opening, volevo farlo adesso e non avevo i crediti disponibili. Però ragazzi, ma è proprio statisticamente è sbagliato diciamo prendere questi, prendere i FIFA Points perché è riuscito ad aprire molti più pacchetti spendendo 20 euro comprando i crediti, infatti se volete puoi comprare i crediti passate da FIFA a Royce Dash, il link lo troverete in descrizione. Comunque il mio gatto è appena andato lì dietro, magari adesso mi staccherà anche qualche cavo, soffiato il primo pacchetto di oggi, non troviamo neanche un buon giocatore, scusate ma io mi sono soffiato con il naso, e abbiamo soffiato il naso, che magici, primo pacchetto non abbiamo trovato aspettamente nulla, sono abbastanza preoccupato perché ho dovuto dire una cosa che è anche abbastanza importante ma che mi sono scordato completamente, secondo il pacchetto di oggi, vediamo, dai. Martínez, Shari Martínez, va un trattato, un trattato a quattro, no male, no male, assolutissimamente, qua se mi sentite un po' con la voce di danzale, un po' da zucchero, è perché sono raffreddato, ormai io sto sempre raffreddato, Martínez non è male ragazzi, quindi io andremo ancora a guidare e si va con il naso. Con il naso raffreddato, oh mio Dio, dai, pisiamo, Pugge, Pugge, vieni, forse ora lo vedrete comparire qui, chi lo sa, e non troverò ancora nulla, abbiamo trovato una leggenda a Zaretti, e vabbè, però stiamo andando male ragazzi, stiamo andando male, non trovo più una cosa buona, io da bravo immersivo ero aperto con i crediti, dai. Ehm, usciamo qua, dai Gionel, no, dai, oh col gomito, col gomito, cioè se non lo troviamo qua è introvabile, è introvabile, dai ho un informa, ragazzi battendo molto le mani e teniamole come sempre così, così, no così, aspettiamo, e abbiamo trovato nulla, sì, busso, Gionel Zorovic, mamma mia, che signor pacchetto, oh ma in questi giorni ho una fortuna bestia, e buono, devo dire molto buono, sì, sì, come l'altra volta, come l'altra volta, dai, dai, oh, su via, su via, belonte, il telefono suona, dovrò andare pure, normale, che schifo, oh ma riusciremo a trovare uno buono, secondo voi, scrivete un commento adesso se secondo voi riusciremo a trovare un buon giocatore, ma io gli direi di mettere il joystick al contrario, oddio, con il joystick al contrario, oh mio dio, dai, ho cominciato, guardate, adesso vedete, il mio gatto, non so se lo state vedendo, ma è lì, poi c'è, c'è quel mio gatto sul letto, oddio, pensavo di trovare qualcosa di buono, lì si sta, oh ma lo posso sull'antelette della Juve, che bolle, questo era la ventidue, ventondicesima volta che lo trovo, beh sì, ora si fa stondare il joystick, oh, no, sto sbagliando, oh, ma per me è il 360, oddio, le skill, dai, oh abbiamo fatto le skill con il joystick, oh io dico, se no abbiamo fatto le skill con il joystick, bene, va bene, dai, stai andando giocatori, guardatevi un po', ma che concretamente non valgono nulla, e c'è un problema, ora, aspettate un attimo, no, apri col naso, col naso del mio gatto, The Catman o Spack, apri, qua, oh, non è aperto, ah no, certo che l'avevo io aperto, non è aperto, oddio, vediamo, oh, pulce, non potete vedere, l'ha aperto lui, l'ha aperto lui, guardatevi, che schifo, guardate le giocatori, la tar拍to lui, non vale assolutamente nulla, però sei stato bravo, comp Snake 20, io posso apri quella gola, volete av gospari con quella gola, guardatevi, ora, sto av Stevie, comando io, ti dice, con la gola, qua, con la gola è, L'abbiamo fatto Sì ce l'hai fatta Dai Bucce Non ti si vede Dai Bucce Vomiterà probabilmente Dai Dai Che schifo Ragazzi poi volevo dirvi una piccola cosa Che non Io mi sconsiglio di prendere per il colo da 25.000 Perché in un pacchetto 25.000 Dovrete 3 giocatori all'orario Ok Però Se ci fate caso In 25.000 riuscirete a prendere sicuramente 3 pacchetti da 7.500 E mettendo a caso che voi troviate In un pacchetto di un giocatore all'orario Sarete già in guadaglia A prendere quello da 7.500 Quindi non avrete quello da 25.000 Però lo stiamo a fare Lo andremo a notare perché ho notato che l'avete venduto qualcuno Quindi non lo abbiamo perché Siamo in Paua Siamo in Paua Siamo in Paua Chissà cosa Dovevo farlo spostare Non abbiamo fatto ancora nulla Però non gli altri Oh io ne ho pagato da 25.000 Non dovete farlo Io non ve lo sconsiglio Ma noi lo facciamo Sì ragazzi Sono seduto sul mio No non sono seduto Mi sono solo appoggiato Sì Sì Ma ho malito L'avete venduto Oddio Ragazzi pregherò per i vostri timpani State tranquilli Quindi noi lo vendiamo a 50.000 Ne possiamo più un altro La 25.000 Dai 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 Ecco come vedete Adesso mi sembrerà magari Vi conviene per il quale 25.000 Ma non è vero Perché stiamo avendo abbastanza fortuna Da quando mi sto sedendo lì Quindi andremo a sederci ancora ovviamente Però io voglio Vitali Oddio Vitali Dai Pulce Lo apriremo A mode In rea e ore Ma cosa mi ha detto? Che schifo Pulce non è buono Non è buono? Vedete Ecco Poi per adesso non mi conviene A te questi libri di bacchetti E Magico Pulce è qua Mi saluta Ora lo faremo andare Tieni il telefono fino a 5 minuti fa Me ne sono appena ricordato Ultimo pacchetto Allora va Dai Nell'ultimo pacchetto non svolto nulla Chiudiamo gli occhi Ultimo pacchetto Tendiamo in crociata le dita Oddio 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 Che schifo Cioè se ci pensate Che in questi 11 minuti Abbiamo speso 20 euro E' una cosa scandalosa Veramente ragazzi Non fatelo assolutissimamente Perché vi conviene Comprarti molto Ma molto Ma molto di più Quindi ragazzi Per il video di si è piaciuto Non abbiamo trovato assolutissimamente nulla Come ormai In tutti i percopri Cosa abbastanza tattica E Mi raccomando Mettete un bel mi piace Vediamo Raggiungiamo I 2500 mi piace E ragazzi Ho piaciuto la base da Facebook Se preferivate vedere Il secondo pink pali Di Ibrahimovic Ci trovate in forma Oppure Il primo pink pali Di Robben Second Diff E ne avete detto Robben Second Diff Quindi Aspettate nei prossimi giorni Il pink pali Di Robben E non più Quello Il secondo Di Ibrahimovic Quindi ragazzi Detto questo Io e Pulce Vi salutiamo Vi diciamo qua dentro A presto In prossimo video Buona